Fiamme in un'abitazione, vigili del fuoco che bloccano il traffico. Un'ambulanza che soccorre un giovane rimasto ferito nel corso di un incidente stradale a poca distanza. Il traffico è completamente bloccato. Ore di grande confusione, ieri hanno segnato il passaggio dal pomeriggio alla sera a Posillipo. Prima un incendio ha distrutto un'abitazione del parco Carè, l'invia Petrarca. Le fiamme sono scaturite all'interno di un appartamento, avvolgendolo interamente e consumandolo in pochi secondi. Sul posto i pompieri, che con due auto sono riusciti a raggiungere lo stabile, mentre due autobotti hanno lavorato allo spegnimento del ruogo dall'alto. Un intervento a distanza necessario perché per loro la stradina era inaccessibile. Il peggio è stato evitato e il fuoco è stato domato totalmente dopo un'ora di intenso lavoro, sotto lo sguardo incuriosito e spaventato degli abitanti della zona che hanno osservato la scena. Tutti gli inquilini della palazzina di via Petrarca sono stati invitati a lasciare le loro case per consentire i controlli sulla staticità. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al momento dello scoppio del ruogo in casa non c'era nessuno. L'ipotesi è che le fiamme siano state causate da un cortocircuito. In contemporanea, mentre nella parte alta di via Orazio il traffico era paralizzato dell'autobotti dei vigili del fuoco, in quella bassa a bloccare la viabilità è stato un grave incidente stradale. Un motorino guidato da un ragazzo è stato colpito da una vettura mentre procedeva in salita. L'ambulanza ha soccorso il giovane portandolo all'ospedale Cardarelli. Sul posto, i carabinieri.